Un 2017 delicato e complesso, quello vissuto in provincia di Teramo in tema di legalità. Il prefetto Graziella Patrizzi, nel suo bilancio di fine anno, plaude alla forte sinergia tra le forze dell'ordine che ha prodotto risultati soddisfacenti. Diminuiscono complessivamente reati sul territorio che passano dai 9.933 del 2016 ai 9.847 del 2017. Nel dettaglio, meno 0,86% di delitti, meno 4,4% di rapine, meno 1,5% di furti. Per il prefetto Patrizzi, i reati contro la persona che si sono verificati nell'anno che si è appena concluso, non sono però riconducibili ad organizzazioni criminali. Aumentano invece i reati legati alle truffe informatiche e alle sostanze stupefacenti. Il 2017 è stato un anno, sapete, particolarmente faticoso, che ha provato molto il territorio provinciale e ha impegnato tantissimo anche le forze dell'ordine e anche tutte le forze statali che sono state impegnate prima di tutto a tutela della pubblica incolumità e poi a seguire in servizi anche di protezione delle persone e anche per antisciacallaggio e quant'altro. Diciamo che è stato un anno che ha sovrapposto all'attività ordinaria delle forze dell'ordine anche un'attività suppletiva molto impegnativa. Particolarmente attivo l'ufficio antimafia della prefettura di Teramo che nel 2017 ha vigilato intensamente sulle possibili infiltrazioni mafiose nelle zone della ricostruzione, raddoppiando il controllo dei protocolli di entrata e di uscita. E se c'è stata diminuzione dei reati nel Teramano è dovuto al fatto che sono stati aumentati i servizi di controllo così come il numero delle pattuglie dislocate sul territorio. Il personale però si sente sotto pressione e denuncia una mancanza di organico. Gli agenti della questura dicono di essere sotto organico e dicono di essere allo stremo? Il problema che gli agenti dicono è un problema che va dicendo in primis il capo della polizia perché è il capo della polizia per primo che va dicendo che si è sotto organico e che le pattuglie purtroppo hanno una media abbastanza alta. Quindi è un problema generale che non è soltanto della polizia di Stato ma è un problema che accomuna anche le altre forze dell'ordine e quindi è un problema che deve essere esaminato nel suo complesso anche a livello normativo. Interessanti i dati sullo stalking. Il questore di Teramo Enrico De Simone ha reso noto un aumento consistente di denunce dopo l'assassinio della dottoressa Esther Pasqualoni avvenuta lo scorso mese di giugno. Si è passati quindi da un'unica ordinanza di ammonimento del 2016 a sette ammonimenti nel 2017. Grazie.